Il mio nome è Colussi, sono specialista in anestesia e in animazione, lavoro presso l'ospedale Tormezzo e sono il titolare delle altre specialità per quanto riguarda il Dipartimento Materno Infantile. Da otto anni che ho portato in questa azienda la parte analgesia, è un percorso che è iniziato da prima lentamente e poi è evoluto grazie anche alle implementazioni che abbiamo avuto di farmaci e materiali. I cambiamenti che abbiamo avuto nella parte analgesia in questi anni sono però sempre stati sottesi da una comune filosofia che ci ha guidato in questi cambiamenti, anzi ci ha portato a dei miglioramenti. Questa filosofia è quella di mettere al centro della nostra attività la donna, cercando di demedicalizzare questo processo che avviene. Di fatto il termine partonangesia che io mi trovo a descrivere è fuorviante in tutto questo, perché forse il parto è un momento, mentre quello che noi facciamo è accompagnare la donna durante tutto il suo travaglio. E anche il termine analgesia può essere limitante, nel senso che è sì vero che noi ci dedichiamo all'analgesia, ovvero a togliere il dolore durante il travaglio, però questo non è il fine ma il mezzo attraverso il quale noi perseguiamo quello che è il nostro scopo, che è quello di rendere più umana, più gradevole, più piacevole di essere vissuta l'esperienza del parto da parte della donna. L'analgesia peridurale, come in altri centri, viene anche da noi perseguita attraverso il posizionamento di un catetere peridurale. Il catetere peridurale non è altro che un piccolo tubicino di plastica, veramente molto sottile, che una volta posizionato diventa impercettibile dalla partoliente, che può continuare tranquillamente a muoversi, ad alzarsi in piedi, a camminare, ad andare in bagno, a svolgere tutte le sue necessità. Il nome peridurale lo prende la sede nella quale viene posizionata la punta di questo catetere, che è uno spazio, uno spazio virtuale, una specie di manicotto, che avvolge il nostro midollo spinale. Cioè noi utilizziamo questo catetere per veicolare i farmaci proprio laddove essi devono agire ed evitare così di posizionare questi farmaci nel circolo ematico, ovvero nel sangue della madre, perché questo farebbe sì che i farmaci andrebbero in contatto anche con il circolo del bambino. questa è una cosa che vogliamo assolutamente evitare. Anche qui diciamo che la nostra filosofia di mettere la donna al centro della partonagesia regna sovrana in questo caso, nel senso che è la donna l'unica a decidere quando ha bisogno di un'assistenza, quando ha bisogno di un'anagesia. Questo vuol dire che anche nelle fasi prodromiche del travaglio può essere richiesta la partonagesia. Sarà poi il compito dello specialista far sì che il suo intervento medico non vada in alcun modo ad interferire con il travaglio. Ci sono anche delle controindicazioni al posizionamento del catetere peridurale che sono quelle che vengono definite in medicina delle coagulopatie. Queste possono essere delle malattie o anche delle condizioni acquisite dall'assunzione di farmaci che impediscono al sangue di coagulare nei tempi o nei modi previsti. Sono molto rare, specie nelle partorienti che ho portato a termine nella gravidanza e quindi sostanzialmente, anche se vengono scrinate regolarmente, sono condizioni che quasi mai vediamo. Una volta posizionato il catetere peridurale, cosa può aspettarsi la donna? Può aspettarsi di continuare a sentire le contrazioni, anche se le sentirai in maniera diversa da prima, nel senso che il dolore sarà molto molto attutito, praticamente assente, ma comunque una sensazione di qualcosa che avviene all'interno dell'addome, una sensazione di contrazione, permarrà e questo farà sì che comunque il parto sia in qualche modo attivo, anche se assistito come sempre dall'ostetrica. Una delle maggiori controversie in passato è stata la correlazione tra parto amgesia e taglio cesare. Diciamo che oggi siamo arrivati a una conclusione che numerosi lavori scientifici supportano ed è che sostanzialmente la parto amgesia non influenza in alcun modo il tasso di taglio cesare. In pratica qualunque donna decide di ricorrere alla parto amgesia non avvedrà in alcun modo il suo rischio di essere cesarizzata aumentato. Quindi questo è anche un fattore di tranquillità. Per quanto riguarda invece il bambino, il bambino mi sento di escludere completamente ogni suo possibile rischio o contaminazione farmacologica. Il fatto che noi posizioniamo un catetere peridurale, ovvero in uno spazio che probabilmente molte persone nemmeno sapevano di avere, è dovuto al fatto che noi portiamo, veicoliamo il farmaco proprio laddove dovrebbe agire, evitando così di infondere il farmaco nel torrente ematico, ovvero nel sangue della parto oriente. Voi tutti sapete che ciò che è nel sangue della mamma arriva anche al sangue del bambino e noi è proprio quello che non vogliamo durante la parto amgesia. Quindi portiamo, come detto, questo farmaco lontano dal torrente ematico, lo portiamo laddove deve agire, per cui la parto amgesia rimane una relazione fra l'anestesista e la mamma. Il bambino non è assolutamente escluso e non avrà alcun effetto collaterale nella parto amgesia. Se qualche persona fosse interessata ad approfondire i temi che ho brevemente esposto in questa piccola discussione, può sempre afferire ai corsi che noi organizziamo un mensilmente tramite il nostro reparto di ginecologia e ostetricia a Tormezzo, corsi della durata di circa un'ora e mezza, due, nei quali vengono spiegati in maniera molto più approfondita sia gli aspetti tecnici, anatomici, medici e anche le indicazioni, le controindicazioni, le modalità con cui accedere a queste possibilità presso la nostra azienda.